Salve ragazzi, benvenuti alla prima Ultimate Battle di 2 Second Kami qui dovremo affrontare i Turks, Reno, Rude e Elena tra gli obiettivi abbiamo ridurre la magia di Reno, quello con gli abili russi ridurre la difesa di Rude, il pelato, e ridurre l'attacco di Elena alla ragazza fanno questi attacchi fisici e magici, quindi conviene portare Protect the Shell appena iniziata la battaglia, dopo una piccola chiacchierata, Elena colpirà tutti quindi è dispensabile avere a disposizione già una cura a OE ecco qua io come primo target vi consiglio Elena perché è un suo attacco che può mandare in confusione quindi può diventare fastidiosa ecco qua, mamma mia, mi ha quasi ucciso, I stole ok ora è pure l'idea quasi morta mangiato gioco un dubbio ok sto skin lo shell già l'abbiamo messo quando ci mettiamo Protect e ci puliamo e non c'è solo Shout entrambi possono subire Poison quindi se siete opportuno potete anche portare un Venom Buster o un Poison Shell e guarda, mi ha appena confuso l'idea ok, non più cominciamo a ridurre l'attacco di Elena così facciamo il primo obiettivo guarda, io ho confuso l'idea meno male quando confondo l'idea non ho alcun problema alla fine quel attacco non fa danni ok, ora riduciamo la difesa dei root così ci troviamo il pensiero ok 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 Ehi. Ci manca solo di ridurre la mancia di reda, quindi ora prendiamoci anche quello e meno gli obiettivi che abbiamo completati. Ecco qua. Ecco qua. Ok, ora che l'inandata abbiamo... non abbiamo più il bisogno che ci confonde. E' rimasto Reno che fa sia danni fisici che magici e Rude che fa, generalmente, danni fisici. Evitate di portare attacchi elementali perché ognuno di loro assorbe un determinato elemento. C'è Elena che assorbe ghiaccio, Reno che assorbe fulmine e Rude che assorbe fuoco. Mi raffidro shout. Grazie. 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 va bene, ok, è andato è una battaglia che parte molto difficile perché dovete subito curarvi tutta la squadra e sono tre di loro che hanno molti attacchi ad aria quindi dovete partire subito salzandovi le difese e con una cura a oe poi vanno a incentrarvi su Elena che vi può confondere i personaggi quindi avere un passaggio confuso è una perdita di tempo ovviamente mano a mano uccidendone una volta la battaglia è molto più semplice grazie per la visualizzazione a breve se riesco posterò l'ultimate plus grazie, ciao grazie grazie grazie